Salve ragazzi, oggi volevo parlarvi di un libro che ho ascoltato Si tratta di Sapiens, da animali a dei Di Yuval Noah Harari Sto parlando ovviamente di un audiolibro, visto che l'ho ascoltato E l'ha, diciamo, in qualche modo recensito, l'ha proposto Giacomo di Entropi4Life In un video che vi lascerò qui nella descrizione e nel primo commento E ho trovato anche un vecchio video di Roberto Mercadini Che ne parlava In cui elogiava con dei piccoli, con delle piccole, diciamo, zoom su alcune problematiche E mi ha interessato molto vedere anche i pareri di altre persone E anche io, devo dire che l'ho apprezzato parecchio Non sono un grande esperto di evoluzione umana Non l'ho studiata molto bene Diciamo che non è il mio campo Ma allo stesso tempo Ho apprezzato tantissimo la coerenza narrativa La spiegazione e l'ordine che lui pone Nelle varie tematiche È uno storico ma è anche un filosofo E quindi è importante riuscire a organizzare un po' il tutto Infatti questo è un libro osannato dalla critica Però c'è una tematica, un punto che io vorrei attenzionare Che è una criticità, per lo meno per quello che ho visto io Per la mia esperienza, in tal senso Che non è stato citato né da Giacomo di Andro People for Life Né da Roberto Mercadini E riguarda un piccolo capitoletto In cui si parla dell'allevamento Bene Quello è diciamo più il mio settore rispetto all'evoluzione umana E quindi forse proprio per questo mi ha colpito più da vicino E mi ha portato ad una riflessione Questa su quello che lui diceva Tutti i dati che lui offre Parlando di allevamento Sono dati corretti e tangibili Quindi non sono stati inventati E su questo non si può mettere nessun tipo di dubbio Però ci sono delle perplessità Sul modo in cui lui comunica Questa sua Diciamo Comunica questa problematica Perché si era Si era affacciato Aveva introdotto E la problematica dell'allevamento Come risorsa dell'uomo Ma che tendeva Troppo a sfruttare gli animali di allevamento Io sono parecchio d'accordo su questa tematica E sono il primo a dire che l'allevamento intensivo Sia quanto di più logorante ci sia Per tanti motivi Sia per quanto riguarda la mancanza di benessere animale Sia per quanto riguarda il prodotto finito Che arriva sulle nostre tavole Sia per quello che è il fattore inquinamento È una delle cause principali di inquinamento L'allevamento intensivo Si parla del 14% Che è una bella somma Perciò Cosa non mi ha colpito? Lui dice Mi sono messo degli appunti qui Per parlare un pochettino di ciò che lui dicesse Lui dice che ci sono effettivamente milioni di capi allevati Che ormai gli animali di allevamento sono così tanti Che a breve supereranno gli animali selvatici Ad esempio il pollo è l'uccello più diffuso al mondo Il pollo d'allevamento Questa è una cosa che fa riflettere Farebbe ridere ma Cioè Come potrebbe essere? Ed è invece così Quindi I dati che lui offre Sono Sono corretti Ma è il modo in cui Li comunica Che mi ha Mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca Ma più che l'amaro in bocca Mi ha dato quel senso di Troppa generalità Di non essere entrato nel dettaglio Di non aver mostrato Nella maniera più corretta e limpida possibile La problematica per quella che è Perché E qua subentra quello che è il mio appunto campo Non ha trattato minimamente del benessere animale Che si sta presentando Sempre maggiormente Ed è crescente Sia dal punto di vista Della comunità europea Delle varienti Che fanno delle direttive E delle leggi a riguardo Sia per quanto riguarda Il singolo Diciamo Consumatore Che È molto più interessato Ultimamente Al benessere dell'animale Da cui proviene Quel prodotto Quelle uova Quella carne Quella latte Infatti Cioè io mi sono posto delle domande Per capire come mai non ne parlasse La prima domanda che mi sono chiesto è Magari il libro È datato prima Di quelle che sono state le Più importanti Svolte per quanto riguarda i benessere animali Il benessere animale è dibattuto da ormai tanto tempo Però Ultimamente ci sono stati dei Delle svolte pratiche Finalmente La prima La prima e la più importante Non lo dico io ma è proprio È stato un cambiamento epocale È stato il cambio Grazie ad una direttiva Del 1997 La direttiva 74 Della comunità europea La sostituzione delle gabbie in batteria Citate anche da Harari In questo capitolo Dove Cinque galline Cinque opaiole Stavano all'interno di un foglio A4 Cioè per capire Come ci dovrebbero entrare Ma va bene Andando a Mandare a fare Tutti quelli che sono i fabbisogni etologici Di questo animale Ma anche la possibilità stessa di muoversi Quindi Questo è proprio per intensificare Al massimo La produzione Andando a occupare il meno spazio possibile Ovviamente non funziona così Non è questo Il modo in cui si può Si può sperare Di ottenere un risultato Quindi Qual è il punto? Il punto è che lui ne parla Ed è giusto Che si faccia Ma Grazie a questa direttiva C'è stata la sostituzione Di queste gabbie in batteria Con delle gabbie arricchite Ovvero delle gabbie Che Molto più grandi Che permettevano agli animali Di avere più spazio Per muoversi E permettevano agli animali Di esprimere Quelli che sono i propri fabbisogni etologici Di poterli estrinsecare Quelli di poter Quindi Fare Il comportamenti di mantenimento Quali la cova Il bagno di sabbia Il Becchettare a terra Tante cose che Fanno parte del Diciamo Dell'etogramma Quindi di quell'insieme Di comportamenti Che Riguardano L'animale Gallina Quindi Lui non cita La Problematica E ho detto Ma magari è perché È relativamente precedente Cioè Prima Del Del 1999 Non poteva essere Mi suonava strano Il libro è Successivo E quindi Mi sono chiesto Ma allora Allora perché non l'ha voluto Cioè Allora Non si era informato Magari Sulla tematica E come mai Se si Si parla di una tematica Cioè Io Nel mio piccolissimo Ogni volta che cerco di parlare di una tematica Provo il quanto più possibile Di informarmi su un argomento E dire Ok Stiamo attenti Non vogliamo dire fesserie Non vogliamo dire cavolate C'è gente che mi ascolta Anche se fossero 10-20 Per me è tantissimo Anche se devo parlare con un amico Cerco sempre Di non dire cose che Cioè O meno ci provo Di non dire cose Che potrebbero essere sbagliate Figuriamoci Quando si tratta di un libro Così importante E allora Mi viene da pensare Ma come mai Il mio pensiero Allora Cambia E non è più Non si è informato O meglio Magari non si è informato Abbastanza bene Su questa tematica Perché c'è qualche bias Che lui si porta dietro Però Non lo so Non conosco Harari Quindi non mi sento di dire Cioè A parte aver letto questo libro Non so molto Sulla sua vita Su chi sia Quindi non mi sento di Salterà a conclusioni Allora cosa ho fatto Mi sono andato a cercare Banalmente La cosa più Diciamo Semplice da fare In questi casi Andare a informarmi Un pochettino Solo a guardarmi La pagina Wikipedia Anche solo per capire Un po' Chi sia Di Harari Capite bene Non serve a nulla Nel senso Non si capisce una persona Chi sia Dalla pagina Wikipedia Però Però intanto è Almeno per capire Avere qualche informazione In più Sulla persona Harari Su Yuval Noah Harari Chi è E Sulla pagina Wikipedia Nella sua vita privata Ho letto Un qualcosa Che mi ha fatto venire Dei dubbi Ho letto che è vegano Beh Il mio pensiero è stato Tra le tante cose Che leggevo Va bene E allora il fatto che sia vegano Cosa c'entra Perché mi è venuto il dubbio Ho detto Ma non è che perché Siccome è vegano Allora E ho detto Ma non c'entra niente No In teoria Non è che siccome sei vegano Devi nascondere Delle cose Delle verità Per non farle vedere Cioè quindi Se non che poi Ho riflettuto Su questa Su questo E mi sono proprio posto La domanda E ho detto Ma Ma può essere invece Ora io non so Assolutamente Anzi sono sicuro Che Al 99% Che non sarà così Lo presumo Perché La dovezza di particolari È oggettiva A prescindere dai tuoi pensieri personali Ma Il dubbio Mi è venuto E ho iniziato a riflettere Su Quanto questo Possa essere un problema Se dovesse esistere Non nel caso di Arari Attenzione Nel caso generico Molto Molto generico E vogliamo Allargare la problematica Non soltanto Alla questione Alimentare Ma a tanti Altre problematiche In cui noi abbiamo Dei bias Che ci portiamo dietro Inevitabilmente Sia per etaggio culturale Sia per Nostra forma mentis E ho riflettuto Quanto fosse Da una parte Difficile Ma dall'altra Anche Problematico Il 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 dover Fare delle scelte Così particolari Nella propria vita E ciò che comporta Doverlo fare Succede Spesso E questa è una cosa Che ho notato Che Persone molto vicine Alla Entro nello specifico Però Dall'argomento Molto vicine All'ambiente Vegano Vegetariano Che C'è Molta informazione Faziosa Molti Molti articoli Che Che leggo Citati Sono Articoli Faziosi E c'è Poco da fare Non c'è Molto da discutere Vegani.it Io Mangio Vegano Medicina Vegana Sono Articoli Che Hanno Un obiettivo È come se Io dicessi Il quotidiano Di destra Non mi aspetto Certi ragionamenti Da un libro Da un Giornale Che si chiama In questo modo Da una testata Chiamata così Come non mi aspetto Appunto Da libero Che si parli Di accoglienza Dei migranti Cioè Sarebbe abbastanza Ridicolo Da parte mia Soltanto il pensare Che Credere Che possa essere Possibile Qualcosa del genere Ma Questo è anche Un bias Che io stesso Mi porto dietro E io voglio Superarlo Però La tematica È Questa tematica Mi è L'ho vista Più volte Sia Sia Nell'ambito Tra virgolette Vogliamo dire Professionale Anche se Stiamo parlando Di piccoli numeri Sia Nell'ambito privato Tra persone Che conosco E Premesso che Varia da persona A persona Perché Non bisogna mai Fare di tutto Sarebbe un fascio È sbagliato Ma Andare a informarsi Su Siti testate Abbastanza faziose Ma anche se Con tutto il bene E la Correttezza Di dati Che ci possa essere Non sempre È la soluzione Anzi Spesso È sempre Un discorso Atto A raggiungere Un obiettivo Che rientra Nella comfort zone In quel Cerchio di argomenti Che rimane Sempre lo stesso Non mi spinge Ad andare oltre Non mi spinge Ad informarmi Bene su Che cos'è Ecco perché Secondo me L'importanza Di fare una scelta Così Così Radicale Della propria vita Come cambiare La propria alimentazione Così tanto Una cosa che io Apprezzo E invidio In parte Questa Questa forza Interiore Che si ha Nel riuscire a fare Una scelta di questo tipo Deve essere accompagnata Da una Relativa Altrettanto Importante Conoscenza Generale Non Specifica Dell'argomento Soltanto E non chiusa In una Gabbia Mediatica Dove ci sono Persone vegane Che parlano Di cose vegane Scritti vegani Post Vegani E basta Bisogna aprire I propri orizzonti Allargarli E La diversità Aiuta tanto In questo senso La diversità Di pensiero Il parlare Con persone Che la pensano Diversamente Aiuta Tanto E non è Un tradimento Nei confronti Della propria cerchia Se vogliamo dire così Anche se non mi piace Raggruppare le persone In cerchie È molto utile E il dubbio Mi viene Pensando appunto Alla possibilità Di dare Informative Fallaci Parlando di Arari Ciò che non mi è piaciuto All'interno del suo Ciò che non è che non mi è piaciuto Che ho ritenuto Un po' generico E poco approfondito È Il peso Che lui dava Alla Importa Al Al Come noi sfruttiamo Gli animali È giusto Ha ragione Noi abbiamo preso Gli animali selvatici Li abbiamo addomesticati E li alleviamo Spesso Purtroppo Anche in maniera intensiva Senza far fare il caso Al loro benessere Al loro benessere Al welfare A tutto questo Gruppo di tematiche Ma è anche vero Che ultimamente La tematica del benessere animale Sta crescendo a dismisura Ma in maniera dirompente E pian piano Più avanti si andrà Più luce Vedrà E quindi è importante Anche Far 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 passare Questo messaggio Perché Io Se non avessi avuto Lo studio che ho Su queste tematiche Ammetto Senza problemi Che Avrei Preso per Unica verità Cosa che non si dovrebbe fare mai Le parole di Aragri Andando a pensare Che effettivamente L'allevamento Sia sbagliato Nel suo Nel suo complesso E sia qualcosa di demoniaco Da demonizzare Da ostracizzare Non è così Ovviamente Ma La vita non è diotomica Non c'è solo bianco e nero Ci sono molte sfumature di grigio E lui stesso Per altre tematiche Lo affronta Questo argomento In maniera Brillante Visionaria Mi verrebbe da dire Io vi consiglio di leggerlo È meraviglioso Come libro Soprattutto il finale Che I brividi Mi sono venuti Ma È importante Essere oggettivi Di quanto più possibile Questo Questo mi fa Mi fa Mi vuole stimolare A darvi un consiglio A voi tutti A prescindere Da qualsiasi vostra Bias O mio bias Che si possa avere I bias In un altro video Ne spiegherò bene Cosa sono Sono delle Sapete che sono Degli stereotipi Che noi ci portiamo dietro Dei preconcetti Che abbiamo Per Per Problematiche Culturali O di Persone che frequentiamo Sociali Anche di Luogo in cui noi viviamo Eccetera eccetera Cose che noi Diamo per assodato E che ci portiamo dietro Ma che in realtà Magari Sono più Complesse Di come noi vediamo È importante quindi A parer mio Andare a Scavare Sempre Andare soprattutto A scavare Laddove È da più fastidio Laddove io dico Mi prude Mi prude Mi prude là In quel punto Però so che Se c'è un motivo Per cui mi prude E allora lì Devo andare a scavare Per sapere La verità Perché poi La scienza È fatta di tanti studi Differenti Di tanti pensieri Differenti Che si Vanno a scontrare Tra loro Che si vanno A organizzare A Condividere Le proprie Scoperte Proprio per Raggiungere La verità Di un argomento Quello che Più ci si avvicina Perlomeno E più andando più avanti Si andrà Più sarà Approfondita Magari quella tematica Ovviamente Non sapremo mai Tutto di Ogni cosa Ma il senso Della scienza È proprio quello Di cercare Di arrivarci Un pochettino Di potersi permettere La possibilità Di arrivarci Quindi Il mio consiglio È proprio questo E se voi Ci tenete Ad avere Un'informazione Quanto più chiara Possibile Dovete andare Proprio a battere In quei punti E come ne ho parlato In un video Che ho fatto Tempo fa Che vi lascio qui Nel riferimento Era su Joker E l'antispecismo L'importanza La prorogativa Dell'uomo È quella Di dover Selo guardare La propria specie Prima di tutto E per farlo Deve salvaguardare Ovviamente Anche tutto L'ecosistema E tutto L'ambiente Con cui Interagisce E anche Quello Con cui Non interagisce Perché ha Una diretta Correlazione Con la vita Stessa nostra Quindi è Il modo migliore Per salvaguardare Noi È salvaguardare L'ambiente Ovviamente Questo vale Anche per l'allevamento C'è poco da dire Non c'è bisogno Di aggiungere Altro A meno che Voi non siete Quelle persone Che dicono Ah Viva gli animali Odio Le persone Dovrebbero morire Tutti Dovrebbero estinguerci E così gli animali Potrebbero vivere in pace Loro sono i veri Eroi I veri Esseri viventi Primogeni Che meritano Di sopravvivere Noi no Noi no Beh Se avete tendenze Autodistruttive Allontanatevi da me Se c'è una cosa Che Pokémon Mi ha insegnato È che L'autodistruzione È qualcosa Che non fa male Solo a se stessi Ma anche a chi Ci sta vicino E anche Alle persone A cui teniamo Quindi No Grazie No grazie È una riflessione Che mi è sorta Scrivendo Questo Questo video E appunto Ero partito Per parlare Della problematica Del benessere animale E di quello Che non mi era piaciuto Di Harari E andando a informarmi meglio Ho letto Questa informazione E mi si è Attivato questo meccanismo Questo ragionamento Dietro E ho detto Ma vuoi vedere che Perché è un pattern Che si ripete Spesso Beh Ragazzi Per quanto riguarda Dei bias Che sono un argomento Interessantissimo Ve ne parlerò Molto più profonditamente In un altro video In lavorazione Spero che Non vi siate annoiati O non vi siate arrabbiati Sappiate che Io quando faccio Questo tipo di video Non è Per attaccare O per lanciare frecciatine A qualcuno È semplicemente Per portarvi Il mio pensiero In modo più chiaro possibile Su quello che Mi gira attorno E Spero che possa aiutarvi In qualche modo A crescere Come persone Come spero aiuti Anche me Nel crescere Nel crescere Da tutti i punti di vista Va bene ragazzi Mi sono dilungato Anche troppo Sono passati 23 minuti Ai 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 Quindi Io vi Rimando ad un prossimo video E vi ricordo sempre Come sempre Di soddisfare i vostri Fabbisogni Etologici Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi E ricordatevi Di iscrivervi al canale E di condividere il video Se vi è piaciuto E di attivare la campanella Ciao 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 Ciao